Carissimi, siamo qui davanti alla tomba al corpo del Beato Carla Curtis e tanti di voi stanno chiedendo preghiere, che stanno inviando le intenzioni, tutti voi che ci seguite per le nostre reti. Vogliamo dire che stiamo in preghiera per voi continuamente, ma in questo momento particolare noi preghiamo per ciascuno di voi qui presso la tomba di Carla Curtis chiedendo la sua intercessione. Padre nostro che sei in cielo e sia sanificato il tuo nome, venga il tuo re, sia fatta la tua volontà come il cielo così interno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimette ama i nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dall'amore. Padre Maria piena di grazie del Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo sangue Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e benedetto il frutto del tuo sangue Gesù. Adesso è l'ora della nostra morte, amè. Novena del Beato Carlo Acutis. Preghiera iniziale, Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acutis durante i suoi quindici anni, trascorsi su questa terra, i perimeriti di questo amato angelo della gioventù. Concede la grazia che ardentimenti vi chiedo. Qui tu puoi dire la grazia che tu desideri. Meditazione del primo giorno Non io, ma Dio Beato Carlo Acutis, che hai fatto della tua vita una continua rinuncia ed annientamento, ottienimi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Amen In ringraziamento a Dio per i doni concessi a Carlo nei quindici anni della sua vita terenna, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debitori, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debitori, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimette a noi i nostri debitori, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Preghiera finale Dio Padre di misericordia eleva alla gloria dell'altare il Beato Carlo Acutis affinché attraverso di lui tu sii sempre più glorificato Dacci l'onore di invocarlo Santo Lui che ha sempre fatto la tua volontà in tutte le cose e per i suoi meriti concedimi la grazia che ardentimenti desidero Amen Che il Signore ti benedica Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Grazie a tutti